Il patto del Nazareno in salsa maremmana, perché Lorenzo Mascagni, candidato del PD a Grosseto, verrà appoggiato anche da Verdini, ex Forza Italia, oggi gruppo ALA. Te lo aspettavamo, Gnai? Sì, me lo aspettavo già, si sapeva, oggi esce nei giornali. Ma Verdini è un problema del PD, non è più un problema di Forza Italia, ci debbano fare i conti loro per quanto riguarda poi anche il consenso che può derivare da questa alleanza. Già da tempo c'era un disegno da parte di Verdini e di Verdignani di appoggiare il Partito Democratico, vi era in Forza Italia a chi non la pensava così, come sottoscritto, insomma ha fatto scelte diverse, più che altro è rimasto nelle posizioni dove eravamo, cioè di autentica, sincera, forte, convinta opposizione al sistema di potere del PD. Insomma, poi soprattutto qui in Toscana francamente diventa difficile capire come chi ha avuto responsabilità politica in Forza Italia nel centro-destra possa poi andare a sostenere i candidati del Partito Democratico, ma così è. Io credo però che questa vicenda grossetana denunci anche una debolezza del Partito Democratico su Grosseto, insomma che già è remersa dopo il ballottaggio e credo che il prossimo appuntamento elettorale delle amministrative del 5 giugno sarà un appuntamento dove il centro-destra in Toscana, come è avvenuto l'anno scorso nelle vittorie a Pedra Santa e a Arezzo, uscirà vincente in tante piazze, Grosseto compresa. La dimostrazione è che un centro-destra unito, un centro-destra dove Forza Italia è protagonista, qui in Toscana oggi più che in passato ha la capacità di essere alternativa di governo e dibattere un Partito Democratico, lacerato dalle divisioni interne e azzoppato, indebolito anche in termini elettorali, da uno scenario nuovo, cioè dalla presenza del Movimento 5 Stelle, che cinque anni fa qui in Toscana non correva alle amministrative, che magari non ha la forza, dopo anche le vicende di Livorno, di poter concorrere per vincere, ma certamente i voti che prende è molto più facile, li prende dal bacino elettorale storicamente di sinistra.